Una sede degna di un patrimonio culturale dell'umanità come riconosciuto dall'UNESCO per la dieta del Mediterraneo nasce a Dostuni presso il palazzo Danzarella in via Cattedrale 2 la sede della fondazione dieta mediterranea presieduta dal Gaetano Crepaldi che si prepara per l'inaugurazione del prossimo 20 aprile alla presenza di autorità ed esperti per valorizzare al meglio attraverso un punto di ritrovo operativo la dieta mediterranea. Qui c'è la lungimiranza del territorio di Brindisi che si è fatto promotore e ha messo su questa fondazione e anche la veramente grande accoglienza che Dostuni dà nel dedicare la sede. Certo è la sede fisica, la dieta mediterranea è il nostro territorio e il contributo di tutti. Un grazie a Dostuni per aver messo a disposizione questa brillantissima sede che farà certamente lusso la fondazione nel mondo e il centro storico è aperto sui nostri colori del Mediterraneo e nel cuore della nostra Puglia. Quali le prospettive con questa nuova sede? Guardi le prospettive sono importanti che la sede certamente permetteranno di avere una location cioè un punto da dove si comincia a parlare della ricerca, dove si comincia a parlare delle iniziative e che potrà ospitare tutti gli studiosi, tutti i competenti che hanno voglia di venire e contribuire alla diffusione di questa meravigliosa cultura che è la cultura della dieta mediterranea. Una iniziativa volta alla promozione di salute e benessere della popolazione territoriale che non si ferma alla inaugurazione della sede ma proseguirà in tutta la provincia con vari appuntamenti descritti dall'assessore all'attività produttive della provincia di Brindisi, Pietro Mita. Venerdì si apre con la presentazione ufficiale, con l'inaugurazione ufficiale della sede della dieta mediterranea a Ostuni, seguirà poi un altro evento molto importante a Ceglie in collaborazione con l'associazione Ceglie che sarà praticamente basata su una degustazione di prodotti nostri del territorio che hanno a che vedere con la dieta mediterranea. L'ultimo appuntamento ovviamente di grande importanza è quello di sabato sera presso la masseria San Domenico dove ci sarà la gara internazionale, il primo premio internazionale figlia Solis che avrà come fondamento proprio quello di premiare il miglior piatto sulla dieta mediterranea. All'iniziativa interverranno diversi cuochi a livello nazionale e a livello internazionale per fare quindi di questa azione anche un momento di valorizzazione del territorio vista la presenza di importantissimi giornalisti sia a livello regionale che a livello nazionale.